Ciao a tutti, mi chiamo Michael, ho 23 anni, sono fisioterapista da circa un anno e mezzo e lavoro in Svizzera in uno studio privato da circa sei mesi. Questo corso è senza dubbio molto impegnativo, è un percorso difficile ma molto completo. Senza dubbio bisogna studiare e continuare ad impegnarsi perché ne vale la pena. Questo lo consiglierei perché è un corso molto completo soprattutto sulla valutazione del paziente e sul trattamento. Ovviamente tutte queste conoscenze potrebbero essere di grande aiuto per i pazienti perché aiutano veramente a capire dove si ha il problema e a risolverlo. È un corso molto difficile e molto impegnativo ma che rimane comunque alla portata anche dei neolaureati come me perché alla fine io non avevo fatto altre esperienze in terapia manuale e sebbene con qualche difficoltà riesco ad apprendere e riesco a sfruttare tutte le nozioni apprese. Assolutamente sì perché con una buona valutazione e con un buon trattamento come insegnato da Nihont si riescono ad affrontare anche patologie più serie, più complicate in tutta sicurezza da cose che comunque sono state carenti come insegnamenti durante l'università. Ciao a tutti e grazie! Grazie!